ciao ragazzi benvenuti al nostro canale io sono peppe alias kami benvenuti nel canale dwelling elite sono qui per raccontarvi e farvi vedere il mazzo con cui ho vinto sabato ho fatto 4-0 pulito pulito ho giocato contro magnet droid control asente gear red eyes portando dark scorpion come potete vedere un mazzo che non avevo mai mai portato mai giocato e che per chi mi conosce sa che all'ultimo secondo difficoltà a montare ma si che voglia e quindi pronto avevo questo mazzo pronto la lista l'ho presa da speed duel decklist una presa da un first place dall'utente di dwelling book jojo è piaciuta molto anche se è molto controverso come decryst l'ho voluta provare avevo le carte non montata l'ho provato ci ho vinto e la faccio vedere per prima cosa ragazzi la skill è molto importante la skill fa attaccare direttamente tutti dal scorpion facendo solo 400 danni e poi quando c'è un don salug puoi scartare una carta per evocare un da scorpion alla mano e uno dal deck molto forte veramente molto forte allora per prima cosa 3 donna perché li devi vedere subito e attivare subito la combo farlo primo turno è sbagliato fallo dopo giusto due cliff che spaccano le magie trappole il tutto il concetto di da scorpion sa che devi fare dei più uno altrimenti sei letteralmente morto due che fanno tornare in mano carte molto fastidiose e con in combo a don salugle puoi scartare quindi molto spesso molti mossi mi sono levati in questo modo gorg grossone che serve a incimare le carte dell'avversario fatevi conto che due per me sono tanti uno desidavo sempre subito monorota per searchare subito il don così quattro opening due fascini per pescare shrink che ti serve a pararti o serve comunque è molto forte soprattutto le anti joy per fare in modo che si inneschi un effetto di un di uno dark scorpion e per salvarti il mostro che come come vedremo fra un po poi sono molto piccoli perdono molto facilmente sono una grande difesa due galaxy cycle per le partite settate tre floodgate in modo che l'avversario evochi setta e non può evocarne altri e devo poco ora personalmente in questa versione ho solo sei carte che possono negare un attacco o o comunque mi fanno parlare i mostri ma io devo fare dieci attacchi diretti personalmente non mi è piaciuta molto questa cosa quando mi è capitato molto spesso di desiderare letteralmente tutte cinque le carte insieme cosa che mi è piaciuta molto però ho avuto molta fortuna sinceramente la side per i massi più trappolosi contro determinati da che anche evil hero sicuramente due ruin e due macrocosmo la differenza con la lista di gioio sono un mini crash on ruin perché qua se ero con se non giocavo contro gioia erano più forti e qui contro determinati deck che secondo me con solo macro avevo match up ma non mi è capitato non l'ho voluto giocare l'extra l'ho messo tanto per fare finta ma non si può evocare nulla sei da scorpion o solo da scorpion se giocavo waking evocavo il da scorpion dal mazzo e vorrei ringrazio tutti gli amici del duello del sabato per gli ottimi duelli è stato il mazzo personalmente ragazzi ve lo giuro non è la sua versione migliore non mi è piaciuto però diciamo che finché tu incimi le carte levi le carte in mano all'avversario non può giocare quindi lo blocchi in questo modo ma non è mio video ma vi giocato tante altre situazioni personalmente ma non non potevo letteralmente non è un mazzo che tanto mi piace era per variare per cambiare vi consiglio se volete giocarlo di provarlo in questo modo ma di non affidarvi solo a questa lista sicuramente ne potete trovare altri anche di pari forti soprattutto quando il mio teammate gabrile che ha vinto due volte di fila con lo stesso deck in una versione più più offensiva a mio avviso bene ragazzi vi ringrazio e non dimenticate di lasciare like e se vi è piaciuto di far vedere i nostri video ai vostri amici duellanti ciao ragazzi